Ciao a tutti, sono Nese e sono qui con un nuovissimo video. Questo sarà un brevissimo video in cui andrò ad aprire due pacchetti che mi sono arrivati per la rubrica C'è posta per Nese. Inizierei subito da questo che è più grande ma in realtà contiene una sola cosa ed è un Pikmi Pops che ho scambiato, praticamente eccolo qua, uno di quelli che mi piacevano di più ed è il coniglietto, purtroppo non ha il bigliettino però vabbè, non mi ricordo quindi il suo nome però è molto carino l'odore non me lo ricordo in questo momento prendo un attimo una checklist e ve lo dico eccolo qua, allora si chiama Abby, è un coniglio e profuma di bubble gum sì via, sì e no, diciamo che è più che altro profuma di fragola ma vabbè, comunque è molto carino e l'unica cosa di questo è che mi dispiace che non l'abbiano fatto sfumato come sta qua cioè qui sembra tutto sfumato e qui invece l'hanno fatto un po' a chiazze però è comunque molto molto carino e uno dei miei preferiti ormai li ho quasi tutti quelli che cercavo quindi sono super contenta presto uscirà la seconda serie e ci saranno anche quelli che sparano confetti come le confetti pop quindi sono molto belli tra l'altro sono a tema dolci, biscotti, gelato eccetera quindi sono molto molto carini quindi preparatevi per quelli quindi questa è la prima cosa la seconda cosa è una cosa che ho acquistato e che è della nuova serie ve l'avevo accennato già in un altro video eccolo qua, sono le Teeny Genies me l'ha inviato gentilissimamente Gea Gaia l'ha preso per me e vedo che mi ha messo anche due omaggini che carini allora questi non li avevo mai avuti sono praticamente una nuova serie dei Num Nums però li hanno fatti snackables o qualcosa del genere non ricordo bene il nome sono praticamente tipo dei mini cereali ovviamente in plastica, in gomma e vengono messi all'interno di una specie di tazza e poi c'è anche una Bat Bomb che ne libera uno misteri e sono davvero molto molto carini e piccolini quindi ti ringrazio molto per avermeli inviati sono carinissimi e questa appunto è la seconda serie allora questa era la prima serie con il manico dorato mentre la nuova serie ha un viola più scuro ed è col manico argento allora vi dico già che qui sotto si può vedere io non l'ho potuto scegliere ovviamente me l'ha mandato lei ma qui sotto si vede tranquillamente il colore della genietta che trovate quindi è anche facile da non trovare doppi insomma questi qua come vedete è la seconda serie e questo è il prezzo 4,49 e niente io direi di andare subito ad aprirlo e a vedere la checklist perché sono molto curiosa di vedere la nuova serie com'è ok vediamo subito la checklist e andiamo a vedere un po' le nuove categorie rispetto a quelle che potete trovare in edicola oppure in edicola potete trovare queste blind bag qui eccole qua ve le ho già recensite un'intera box quindi se volete vederle lo trovate sul canale e ora vediamo la checklist allora le nuove oh che carine wow queste qua tutte tutte diciamo glitterate trasparenti sono fantastiche allora praticamente queste hanno tipo tutte gemme come vedete wow che bella questa e queste qua sono come vedete calamitate poi abbiamo queste con i fiori molto carine o carina lei col fiore carinissime poi abbiamo queste che sono della musica uh carino il draghetto queste sono della fisher prize della mattel uh coi dolci no vabbè stupende poi abbiamo queste qui che sono inverno magico quindi sono invernali molto carine poi abbiamo queste con la festa in maschera e gli ultimi sono gli animali o gli amici praticamente molto belle molto molto belle sono molto curiosa di vedere chi troviamo quindi andiamo subito ad aprirla uh carina uh quella invernale allora abbiamo lei con la slitta diamo un attimo allora abbiamo lei eccola qua non credo ci sia una rarità particolare non penso comunque abbiamo lei molto bella allora ve la faccio vedere più da vicino eccola qua queste geniette io le adoro mi piacciono tantissimo tutte quante questa ha la chioma blu trasparente glitterata e sta su questa su questa slitta appunto che è dorata e è molto molto carina e anche queste le potete mettere sulle basi ad anello che trovate in edicola in teoria potrebbe ruotare la testa però qua vedo che è un po' peccicata vediamo si ruota la testa eccola qua molto molto carina mi piacciono tutte tantissimo fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate allora queste qua della seconda serie non so se sono già disponibili da noi nei negozi di giocattoli perché Gea vive su al nord al confine quindi lì diciamo che sono un po' ci hanno un po' di novità che da noi non sono sempre arrivate quindi non so se arriverà da noi in ogni caso è stupenda fatemi sapere se vi piace se vi piace il Pikmi Pops e niente noi ci vediamo in un prossimo video vi mando un grosso bacio e un salutone mi raccomando iscrivetevi al mio canale condividete il video se vi va mettete tanti like partecipate ai miei giveaway e ci vediamo presto un bacione alla prossima ciao ciao